E' un ognomo armato di ascia Alcuni turisti argentini stanno facendo un'escursione in un bosco del Nord America La bambina gli tira un sasso E' un ognomo armato di ascia Questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia Improvvisamente la figura si alza E' un ognomo armato di ascia Questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia E' un ognomo armato di ascia E' un ognomo armato di ascia E' un giovane ognomo armato di ascia Questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia Con una lunga barba e un cappello brutta Due giovani escursionisti sono riusciti a riprendere delle immagini eccezionali Forse si tratta di un ognomo dei boschi di cui parlano le leggende del luogo Forse, forse Forse Del luogo Una strana figura che cosa sia Una strana figura che cosa sia E' un ognomo armato di ascia Questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia Improvvisamente la figura si alza E' un ognomo armato di ascia Questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia E' un ognomo armato di ascia E' da qui così pericolosa E' un ognomo armato di ascia Ognomo armato di ascia E' un ognomo armato di ascia Improvvisamente la figura si alza E' un ognomo armato di ascia Ognomo armato di ascia E' un ognomo armato di ascia E' un ognomo armato di ascia La bambina gli tira un sasso, proprio vicino a un piccolo e serino, la bambina gli tira un sasso, è un gnomo armato di ascia, 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 armato di ascia. Un gnomo armato di ascia, è davvero così pericosa, è un gnomo armato di ascia, improvvisamente la figura si ha, è un gnomo armato di ascia, un gnomo armato di ascia, un umanoide, un umanoide armato di ascia, un umanoide, un umanoide armato di ascia. Grazie.